Avevo registrato questa parte in maniera diversa però ero troppo serio e quindi l'ho cancellata e la sto registrando Abbiamo il bicchiere, abbiamo ovviamente uno spumantino pagato pochi euro proprio sotto marca di quelli più scadenti che c'era Pensavo che avesse il tappo in sughero per fare lo stappo, sono rimasto fregato perché non ha niente di tutto questo Ho coperto perché non voglio fare pubblicità, se volete la pubblicità dovete pagare, contattatemi, uno sponsor o qualsiasi cosa avete Sarò ben lieto di sponsorizzare la vostra attività, vendiamo, è giunta l'ora, devi si vende, questo è il messaggio che voglio lanciare Dopo 9 anni di attività su Youtube io mi vendo, se avete un'attività, conoscete qualcuno, sono pronto a sponsorizzare Ok, proprio con tutto quanto, una bella maglietta e il cappellino e facciamola sponsorizzare Ok, parlo vagamente e seriamente Allora, il video sarà così strutturato, io che parlo per x minuti, non lo so neanche io per quanto tempo parlerò E poi ci saranno tre video di giochi, guarda caso saranno War Thunder, World of Warships ed Enlisted Quindi nell'ordine ci saranno queste clip di unità che ho preparato nelle clip Il video, perfetto Allora, questo è già più il mio stile questo avvio di video Perché poi l'avevo fatto ma era troppo serio, troppa depressione Oggi è un giorno felice e bisognerebbe festeggiare Allora, però, all'interno di tutto vorrei lanciare un messaggio a tutti Ok? A chi mi supporta e anche a chi non mi supporta Ragazzi, vi voglio bene Veramente Ve lo dico, sono serio Voglio bene a tutti D'accordo? Sia gli hater che chi mi supporta Lo ripeto, vi voglio bene a tutti quanti E qualcuno potrebbe pensare Devi, ancora devi bere e già stai dando i numeri No, in realtà, per due motivi Chi mi vuole bene ti sprona a migliorare sempre di più E a creare nuovi video, nuove situazioni, eccetera, eccetera Quindi già di per sé è un ottimo carburante per andare avanti Ma anche chi ti vuole meno bene, gli haters Hanno un carburante, ti danno quel carburante aggiuntivo E anche migliore nel pubblicare più video Per pubblicare più cose Proprio perché in qualche modo dimostri sempre e comunque Che le parole che dicono, le cose che scrivono Sono semplicemente una perdita di tempo per loro stessi Potrebbero fare tante cose, però a quanto pare Hanno tempo da perdere nel, in qualche modo Cercare di bloccare la crescita di una persona Che può essere magari in ambito lavorativo Come può essere YouTube In ambito di amicizie In ambito sentimentale In ambito lavorativo Ok, tu che vai al lavoro Allora c'è quello che da Quelle persone che danno fastidio sono in qualsiasi settore A scuola Ok, quindi queste persone Ripeto Dovete iniziare a non sentirle D'accordo? Quello che dicono le persone di voi Dovete imparare a pregarvene Non dovete porvi nessun problema Vivete la vostra vita come meglio credete D'accordo? Questo è un messaggio che lancio Ovviamente a chi ha intenzione di fare un qualcosa Però non ha il supporto in qualche modo di qualcuno Ebbene, vai Continua ad andare per la tua strada Fregatene di quello che dicono le persone Continua a lavorare sodo Continua a studiare Continua anche ad evolverti se necessario Ma fallo sempre per te stesso Ok, questo è un messaggio che volevo lanciare Perché mi sembrava doveroso Lasciare un messaggio positivo dopo nove anni Ne ho disseminati diversi, d'accordo? Nel corso dei video, su 2500 video Ne ho dette tante Di consigli anche rispetto, insomma, di vita E di cose simili, d'accordo? Anche durante le live Ci siamo fatti tante chiacchierate E lo sapete Per chi mi segue E saprete anche che ho diviso L'andamento del canale Se qualcuno fosse interessato a sapere Come va il canale Giunti a questo punto Ho creato un video ad hoc Dove spiego tutto quanto Il mio stato d'animo Le visualizzazioni Tutto quanto, d'accordo? L'ho scorporato da questo video Perché altrimenti sarebbe stato troppo pesante Invece qui vorrei un attimino Fare una chiacchierata Però in maniera molto più leggera Come detto Bicchiere pronto Il coso qui anche Lo spumantino Che tra poco mi vado a Tutto Non rimarrà neanche una goccia D'accordo? Ovviamente poi Insomma Non devo guidare Non devo fare niente Devo rimanere a casa Quindi vi raccomando ragazzi Cercate anche di Comportarvi bene Da questo punto di vista Vedi i messaggi positivi Che lancio Ma gli altri Lanciano questi messaggi positivi? No Semplicemente giocano E Giocano Tra virgolette Capito Qual è la differenza Sempre tra me e gli altri Ok Allora Cos'altro Dobbiamo dire Una cosa importante Per il canale Allora 2500 video L'abbiamo capito Devi che hai fatto 2500 video Però in realtà Ci saranno altri video Perché intendo Finalmente Mi sono deciso Ho trovato il tempo Il coraggio La voglia E tutto quanto Di lanciare Si spera Una volta e per tutte La sezione Abbonati Eccolo lui Che sfrutta L'occasione Dei nove anni Per chiederci i soldi Nì Nel senso L'abbonamento minimo Parte da 0,99 centesimi Per chi volesse supportarmi Ok ragazzi E in cambio E non è che non vi do nulla E no Andrò a produrre Dei video Disponibili Solo ed esclusivamente Per gli abbonati Saranno magari Dei video un pochino più Entrando nel specifico Dell'unità D'accordo E appunto Saranno dei video Ulteriori L'andamento Di pubblicazione Di questi video Per abbonati Ancora Non so dirvi Con esattezza Ogni quanto usciranno Io cercherò Quanto meno Di caricare Quei tre video A settimana Può darsi che saranno Poi sette Saranno dieci Sarà uno Non lo so Ok Semplicemente però Voglio lanciare Quella sezione Quindi ragazzi Se a fine video Vorreste supportarmi Ulteriormente Potete abbonarvi A partire Da 0,99 centesimi Con meno Di un euro Al mese Supporterete La persona Qui presente Un ringraziamento Va già Ovviamente A coloro I quali sono Abbonati E mi supportano E avrete anche Lo stemmino davanti Dopo il vostro nome Con la D Di Devi Ok Che più sarete abbonati Più sarà carina Da sfoggiare Quando commenterete I miei video Se poi vedo Che nessuno Si abbona Amen Pazienza I video A quel punto Poi Diciamo Quel progetto Si chiude E non produrrò Più video Perché Insomma Devo avere Un pubblico Minimo Che in qualche modo Giustifichi Quell'impegno Di tempo Il tempo È Essenziale Se Fate Video Su youtube Ok Quindi se Avete intenzione Di lavorare Su youtube Youtube È un motore Di ricerca Il secondo Motore di ricerca Al mondo Dopo google Che tra l'altro Vanno di pari passo Mi verrebbe da dire È Un'opportunità Concreta Anche di lavoro D'accordo Io non ho Solo Davy G90 Games È tutto È tutto un mondo Il lavoro Online Davy G90 Games Ricopre Una fetta Di questo mondo Di cui Io ho preso A far parte Ormai Da diverso tempo D'accordo Però ripeto Tutte queste informazioni Le ho trattate Sul secondo canale Eccetera Per quanto riguarda Davy G90 Games I video continuano ad uscire War Thunder World of Warships È nel listed La sezione community Riprenderà A brevissimo Vediamo Tra oggi E domani Insomma Riprenderà Anche quella sezione Che ho visto Attirare molto Molto La vostra Attenzione E poi gli shorts Insomma Stanno Non dico spopolando Perché sembra che Stiamo facendo 100.000 visualizzazioni Ogni volta Però Noto che c'è Un interesse Abbastanza Importante E quindi si continua Anche Da quel punto di vista Ovviamente Davy G90 Games Continuerà nel tempo Questa è Solo una Delle tante Pietre miliari Che io In qualche modo Ho raggiunto Nove anni Però Non è sufficiente Io voglio che Questa esperienza Continui Uno Perché mi piace Due Perché Mi piace Leggere i commenti Mi piace Vedere cosa Dicono le persone D'accordo Su quello che Vado a creare Positivo E non positivo Il famoso Carburante E poi Anche se Questo punto Dovrebbe essere In teoria Nella prima Nella parte alta C'è il ritorno Economico Che mi consente Di fare Determinate cose Che insomma Sono importanti Perché non so voi Ma Senza soldi Non si fa nulla D'accordo Quindi dovremmo anche Un attimino Lasciare L'idea Che lo youtuber Il creatore Dei contenuti Non lavora No Sempre questa cosa Andate a lavorare In miniera Tutta questa Insomma ragazzi Per cortesia Il mondo Si sta evolvendo L'avvento Dell'intelligenza Artificiale È sempre più presente Quindi E' Così Che il mondo Sta andando In quella direzione E quindi Insomma Quella direzione Sto cercando Di in qualche modo Intercettarla Da diverso tempo Con risultati Anche piuttosto Piacevoli Per quanto riguarda Se volete Sapere Qualcosa di più privato Ho in mente Un cambiamento Radicale Per quanto riguarda La mia persona I progetti futuri Mi vedono Mi vedono Lontano Dalla mia città Mi vedono A fare Altre cose Però ripeto Non voglio Mettere troppa carne A cuocere Perché ripeto Questa fa parte Della vita Un mattoncino Poco alla volta Si costruisce Tutto quanto Allora Sì Ma adesso Iniziamo a bere E che se un'acqua Si beve più Una cosa Hai sentito? Una cosa tristissima Perché il tappo È di plastica Quindi Si devo dire Non si sentirà il rumore Penso Sono 20 ml Per chi se lo stesse chiedendo Si riscoliamo tutti Voilà No Ora Non scrivete Nei commenti Di bere Tutto Una volta Lo potrei fare Ok Però Test Vale 2 euro Un po' freddo Alla saluto del canale Vale 2 euro Vale più il bicchiere Del contenuto Si feste In realtà Avevo pensato Di fare anche Cioè In realtà Volevo la bottiglia Quella grande Sai Che lo stappi Il tappo che vola Volevo anche Dei pasticcini Una candela Niente di tutto questo Stiamo facendo Un festeggiamento Poverata Però va benissimo Così perché Insomma I soldi Sono destinate Per cose Un pochino Più Importanti D'accordo I festeggiamenti Si possono fare In qualsiasi momento Allora So che questo tipo Di video Potreste guardarlo Per ore Per ore Ore No ore no Ore no Ore con le R Ogni tanto io Confondo le R Con le R Capito E quindi Questo è quanto Cosa dobbiamo dire Quindi abbiamo parlato Del canale Nel video precedente Stiamo festeggiando Anche se non si direbbe La mia presenza Su youtube Da nove anni I video sono già pronti Spero che li guardiate Tutti Questo video Ragazzi Cercate di sorprendermi Con i mi piace A quanti possiamo Mille mi No Mille non ce la facciamo Ce la facciamo Mille vero Eppure il record Del canale Ha superato Anche i duemila mi piace Un video Ora Dunque Il video più visto Visto che Insomma Parliamo un po' Anche di questa cosa Il video più visto In assoluto Sul mio canale Youtube Aspetta che qua Mi parte l'audio Se non No aspetta ho sbagliato Sto aprendo Cose a caso Il video più visto In assoluto È di Della corazzata Roma 48.398 Visualizzazioni Il secondo video più visto Sul canale di David Del BV238 45.455 Visualizzazioni Sono video Che potete trovare Nella mia home page Di Youtube C'è scritto Video popolari E ci stanno i video Poi c'è il video Del G91 Preserie 43.730 Visualizzazioni Il caro armato italiano Ariete PSO 42.730 Il P1000 41.000 Visualizzazioni E poi 38.000 Si conclude Questa Questa carrellata Ma ce ne sono tanti altri Con il tutorial Su World Warships Con 38.505 Visualizzazioni Sono dei numeri A dir poco Da capogiro Numeri Che sono stati raggiunti Completamente Da solo Senza Sponsorizzate Collaborazioni Andare a pubblicare Il video Sui forum Nei Come si chiamano Nei gruppi facebook Su telegram Su whatsapp Senza fare Queste cose Ma Fammi bere Perché sennò Parto Fa schifo Senza fare Queste cose Io l'ho fatto Da solo Ma sai cosa vuol dire Fare i video Da solo Ecco bene E abbiamo raggiunto Questi risultati Clamorosi Ora Cos'altro Dobbiamo dire Cos'altro Dobbiamo dire Che il canale Ha raggiunto Quota 7.528.164 Visualizzazioni Siamo Ormai Sulla rotta Dei 19.000 Iscritti A 20.000 Iscritti Potrei impazzire Perché è un numero Che sto desiderando Veramente Tantissimo Per chi non lo sapesse O per chi mi seguisse Da poco Io non streammo Più su Twitch È un qualcosa Che ho fatto E facevo Anni fa Avevo anche Abbastanza seguito Eravamo arrivati Quasi a 2000 follower Però poi Mi sono reso conto Che Twitch È un qualcosa Che Spreme Spreme La persona D'accordo Perché la persona Se vuole guadagnare È obbligata A streammare D'accordo Mentre su YouTube Il discorso È diverso Crei il video E il video Può essere visto 24 ore su 24 A tal proposito Vorrei ringraziare Le persone Che guardano I miei video E qui lo devo dire Perché È qualcosa Di incredibile Guardano i video Addirittura La mattina All'alba Tipo alle 3 di mattina Alle 4 Sto guardando lo schermo Alle 4 Alle 6 di mattina Quindi c'è questa fascia oraria In cui i miei video Vengono visti Non so chi guarda i video A quest'ora Però vi devo ringraziare Perché ripeto Il canale YouTube Copre Un'intera fascia Oraria Ovviamente Ci sono degli orari Un pochino più Come dire Più No Di picco D'accordo Mentre orari Un pochino più bassi Come per esempio I dati che ho citato Precedentemente Cos'altro dobbiamo dire Abbiamo parlato Del più e del meno Stiamo Invece Ragazzi è terribile Cioè Non è che è terribile Vale sempre I famosi Due euro Allora Cos'altro dobbiamo dire Abbiamo registrato Per 17 minuti e mezzo Dove praticamente Stiamo facendo Prendiamo Prendiamo tempo No in realtà In realtà Adesso noi Ah ecco Un'altra cosa Se volete seguirmi Su Instagram Su TikTok Su Instagram Ho due profili Il mio profilo privato Il profilo Davy G90 YouTube Dove pubblico Ulteriori cose Alcuni maggiore Maggiori contenuti Del sottoscritto Per quanto riguarda il canale Non faremo mai Collaborazioni Ok Quindi la collaborazione È un qualcosa Che fa sprofondare Un canale YouTube Perché la persona Si deve connettere Per vedere Davy Cioè La persona Deve essere felice Di poter osservare Davy D'accordo Le collaborazioni Perché poi questo discorso Io lo vedo Lo vedo E seguo anche Con un determinato interesse I canali grandi Con un milione Un milione e mezzo Di Di iscritte Eccetera eccetera Che fanno sempre Sempre collaborazioni Collaborazioni Poi manca quello Con cui fanno la collaborazione E il canale Sprofonda Le visualizzazioni Sprofondano Perché tu stai In qualche modo Creando un qualcosa Che non ti appartiene D'accordo Ecco perché le collaborazioni Su YouTube Non si fanno Non si devono fare Secondo me È un qualcosa Di errato Anche perché Chi è che vorrebbe Collaborare con me Nessuno Né tantomeno Io voglio collaborare Con qualcun altro Quindi il problema Non si pone A prescindere Anche se un canale Da un milione Di iscritti Mi dovesse dire Oh Davy Facciamo un video insieme Perché ho visto Che su World Thunder World of Warships Non è listed Ci capisci Non mi interessa Non capisco Io non capisco Non voglio fare collaborazioni Perfetto Cos'altro dobbiamo dire No nulla In ordine Adesso ci saranno I video di World Thunder Delle clip che ho preparato Di World of Warships E poi del listed Quindi finisce il primo blocco E poi subito Sparati Si va Nell'altro gioco Perché già abbiamo Utilizzato 20 minuti Di questo video Per parlare Di che Non lo so Non vedrà nessuno In realtà Quei gameplay Perché sto 20 minuti Di me Che faccio Non si riguarda Nessuno Vediamo Terribile 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 Due Due euro Anzi no 6 euro Perché Questi erano Da 6 Quindi Ce n'ho altri Due Anzi uno L'ho già bevuto Per disperazione Perché Fammi provare Quindi Andiamo a vedere Per quanto riguarda War Thunder Andremo a vedere Una piccola combo Italiana Composta Dall'F-104S Che utilizzerà Delle bombe Che sono state Selezionate E messe Nella preselezione 2 D'accordo In particolar modo La bomba Da 2000 Libre E andremo Poi a giocare Il nostro Centauro Un Un auto Blindo Non troppo blindato Ok Con una velocità Di 110 km Orari 4 membri Dell'equipaggio Così disposti Abbiamo L'artigliere Il servente Il comandante E il pilota Non abbiamo Praticamente Corazzatura Quindi qualsiasi cosa Ci potrà distruggere Senza troppi problemi Anche se Devo dire la verità Se mostrerete Solo la parte Anteriore Ok Del centauro Essendoci Il motore E il radiatore Se un colpo Sabot Non causerà Un'esplosione Proprio perché Il serbatoio E distante D'accordo E poi le munizioni Sono sul retro Quindi Se poco poco Andate avanti Non è un grosso problema Il problema è che Ovviamente Poi sarete immobilizzati E quindi Cambiando proiettile Il nemico Vi distruggerà Abbiamo un cannone Da 120 Che utilizzerà Delle Sabot Particolarmente Efficaci Abbiamo la NVD Ok E abbiamo anche Il nostro Drone Da ricognizione Le ottiche migliorate E ancora Il sistema Allerta laser E telemetro laser Diciamo che Siamo abbastanza Equipaggiati Per concludere Abbiamo delle mitragliatrici La 12.7 E 27.62 Ecco Nel dettaglio Siamo pronti Andiamo a vedere Quello che Ho preparato Per voi Anzi Devo dire una cosa Che mi stavo anche scordando Vedi C'è sempre Qualcosa che mi scordo Per chi mi segue Su Instagram Avevo preparato Delle clip Davvero molto Belle Sul Centauro Però Sfortunatamente Le ho perse Parliamo di Kill su elicotteri A 4 km Di distanza Con le Sabot Eccetera 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 D'accordo Purtroppo Ho perso Quelle clip Però Vi posso assicurare Che le clip Che ho preparato E che state per vedere Comunque Sono Accettabili E Spero Vi possano Piacere Quindi Mi spiace Aver perso Quelle clip Però Ripeto È stato un errore Che ho fatto E quindi Non c'è stato modo Di recuperare il tutto E non siete tristi Perché comunque Ho preparato altro Via Eh Siamo solo in due Da quel che vedo Mmm Comandante Serbatoio Va bene Addirittura Addirittura Culatta Può fare nulla Eh E che gli dico 600 Va bene E poi Non so che stella Però non posso fare niente Perché sto riparando Quello è il mio drone Sono solo Ma serio Eh il drone Ci ho rimesso il drone Però Ci ho rimesso il drone Raga Sto gioco Non si può fare All'infinito Sto gioco All'infinito Non si può fare Non ne vado Fammi mettere La bomba da mille Ti vedo Ti salva Devi Tranquillo Rip Cos'era D80U Beh buttalo via No Che cosa Mi ha preso Ma serio Io Io direi di tornare Alla base Va butto lì Ah proprio Senza problemi Non proprio facilissimo Non ho flap Vado solo Di aerofreno Carrello Eh lo so che siamo veloci Nessun flap Siamo velocissimi Atterraggio alla tepi Funziona Spegni tutto Spegni tutto Ma che atterraggio è Che atterraggio è questo Ma Vabbè qualcuno potrebbe dire Devi sei atterrato Qui l'atterraggio morbido Te lo sei anche portato a casa Sì ma è Surreale l'atterraggio Che ho fatto Soprattutto Sarebbe veramente Da vedere quasi a replay Il passaggio Dell'aereo Sulla casa Cioè Proprio è una questione Millimetrica Datemi un riferimento Eccolo là Vedo Uh Bella Yes Come on L'ho preso in pieno Uh No C'era l'elicottero lì Eh vabbè Dopo un'attenta analisi Ho capito Quello che è successo In poche parole Ehm Penso di aver subito Un danno Leggero In coda Non avendo più Il controllo Dell'aereo Perché stavo andando Ero troppo veloce E andavo contro il suolo Ho attivato effettivamente I flap Ho rivisto il replay E quindi con l'alta velocità I flap Si sono Strappati E infatti Prima si è rotto Quello di destra Mi sa E poi quello di sinistra E vabbè E poi siamo tornati Ehm Avete vinto Qualcuno potrebbe pensare Ma non si può Cappare subito Il cap A inizio partita Cioè io mi butto in cap Massima velocità Testa bassa Purtroppo non è così facile Come si potrebbe Vagamente pensare Perché A questi livelli Miseria Ecco Come potete ben osservare Come io vedo loro Loro vedono me Più o meno Ecco qua Mi è andato pure bene Mi è andata Ti salvatevi Motore Cingolo Serva Tutto Va bene Hai penetrato Maggiormente tu nel lato Il colpo volevo che andasse Proprio lì Non mi serve la mitagliatrice Fermo Eh qua la ricarica Come on Che mi invento? Potevi anche individuarlo Non mi ha visto eh Anche a sti livelli Succedono ste cose Era Aveva una easy kill Era una easy kill Per lui Però non mi ha visto Cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire? Ho preso i proiettili Ho preso tutti Ho preso Lascia stare Lascia stare Mi è andata molto bene In questa partita Perché Potevo essere ristrutto In più occasioni Non devo parlare Devo stare zitto Non ho Non ho Possibilità di colpirlo L'altro si però Colpo E non ci facciamo nulla Col colpo E vabbè Dai Ma che cavolo sei? Assist Ma vai a quel paese C'è Ma No c'è C'è un palazzo Qua comunque Ma hai capito Quello che succede Possiamo avere Un po' di time out Per favore Basta Eh vabbè Eh vabbè Mi vedono dietro E' fermo E' fermo Vai fare il giro Di tutto il mondo Qua E' ma che facciamo Eh io sparo Sabot Tu spari Sabot Stiamo qui un'ora Ah 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 Non posso fare niente Qualcuno che mi dà una mano Qualcuno che mi Qualcuno che mi Quattro Quattro Incredibile Wow Ragà fate schifo Ragà fate schifo Fate schifo Abbiamo capito Che stella Ma ragazzi Ma io devo tankare Devo tankare io Con sto coso O devo stare Cioè capito Qual è il problema Fra Ovviamente Nessuno mi ha aiutato Ovviamente Guarda quanti ce ne sono dietro Guarda guarda Eh dai Mo' è rotto Le scatole eh Guarda quanti ce ne sono dietro Nessuno che dà una mano Eh forse abbiamo trovato Uno che aiuta Forse Vediamo Ah meno male Cos'è successo Sparato Non pensate troppo Quello che dovete fare Agite Agite Su World of Warships Andiamo a vedere Una partita con il Napoli Vi ricordo che la nave Si può ottenere All'interno Dell'armeria Scambiando il vostro carbone Appunto Con la suddetta nave Molto rapidamente Vi faccio vedere L'equipaggiamento Che porto D'accordo Tutto consigliato Tranne nella seconda slot Il gioco vi dice Protezione Sala macchine Io ho messo il sistema Di controllo danni Modificato 1 Tutte le bandierine Da combattimento E poi consumabili Sono i seguenti Scarico fumogeno Il caccia La riparazione Ovviamente Squadra di riparazione E ancora Squadra controllo danni La vita Di 63.700 punti Tramite la skill Comandante Che vediamo a breve Artiglieria Dato molto importante Abbiamo una ricarica Di 15 secondi Con i 254 E poi I cannoni secondari Spareranno SAP Con una gittata Di 11 km La nave Viene spottata A 10.3 E' un qualcosa Assolutamente Di incredibile Quindi quando verrete Spottati Le secondarie Potranno già sparare Da un bel po' 700 metri Una nave Molto rapida 37.3 Una difesa Contraerea Buona Nel corto Medio raggio E poi l'incursionaria Per attaccare I sommergibili E ancora I siluri Fino a 13.5 Le skill Del comandante Sono state riviste Perché è stata aggiunta La voce devastante Che appunto Ci dà il 20% In più Digittata Sulle secondarie Di seguito Trovate I seguenti Le seguenti Skill Che ho messo Per il mio Napoli Potrebbe cambiare qualcosa Però fino a questo momento Sinceramente Mi sto trovando Abbastanza bene Il gameplay E' incentrato Essenzialmente Nel farvi vedere La capacità di perforazione Delle secondarie E di quanto E di quanto Possono Superare Fa l'Alland Fa l'Alland E il Gearing Fa il Gearing Al fecciarli Dovremmo prenderli D'accordo Quindi rimarrebbe Bravo scoperto Mi offro Volontario Per cercare Di cappare Dunque Ovviamente Una nave nemica Come un Salem Un Minotaur O un Napoli Potrebbero fare La stessa identica cosa E dar Fastidio D'accordo Quindi facciamo Attenzione Allora Vediamo cosa Riusciamo a fare Charlie Alfa Yoshino Jinan La divisione Sembra abbastanza Equa Delle navi C'è un altro Napoli Tra l'altro In squadra Quindi siamo Due Che stai pensando La stessa cosa Che ho pensato io Solo che io Ho messo i punti Vita Tu non li hai messi Vedremo Se serviranno Quei punti vita Extra Venezia Sulla destra Va benissimo Abbiamo radar Borgogna Diciamo che Abbiamo Una forza Importante Di attacco Jinan Insomma Con i siluri Però Questa non è Proprio una mappa Che fa Per lo Jinan Non è comoda D'accordo Perché anche Se si dovesse mettere Centrale Lo Jinan Troppe isole Come fanno a passare I siluri Dovrebbero I nemici Dovrebbero entrare Letteralmente Su alfa D'accordo Quindi Dimaniamo Tranquilli Perché abbiamo Una bassa rilevabilità Qua l'unico Che ci può spottare È il Minotaur E il Salem Non ricordo bene Senti Io due siluri Però là dentro Te li voglio lanciare Dobbiamo veramente Attaccarli alle spalle Cioè Io posso Posso Usare le secondarie Rimanendo invisibile Ma hanno valutato Questa cosa Stiamo sparando Con le secondarie Guarda come passano Guarda Ma stai vedendo Madonna Ragazzi Madonna Ragazzi Madonna Opla Che che mi spotta Caccio Dolpe di ieri Mi sta spottando Fumo Aereo E sto fermo Vorrei tanto sparare Quel thunder La mi dà un po' di fastidio Questi due li Potevano anche andare Mi sarebbe Piaciuto Non mi piace La situazione Come si sta evolvendo Però Vabbè La Republic Wow Wow Ma questi veramente stanno Vogliono pushare Alpha Ma come vogliono pushare Scusami Con chi Soprattutto Di là il gearing Non spot Un mezzo pensiero Dello scontro Me lo farei anche Ma c'è la thunder Che dà fastidio Vedi Senti Senti Due siduri In là A gradire Abbiamo fatto solo 16.000 danni Ma che è sta poverata Io mi fermo Ma facciamo fare le secondarie Gearing Garing completamente Ignora il grido disperato Del signor Barisba Arrivano i filuri Ti dico solo questo Aspetta perché comunque lui sta là Due siduri te li prendi Tre Quattro Cinque Dieci Venti La No lascia Lascia Ci prendiamo una palanca di danni Sta Se è girato Non ce la faccio più Non è che mi esce il Salem Vero Ma la sto giocando Come vedete sul filo Del proprio Del fuorigioco Cittadellina Ina 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 Salem Buongiorno Mi dica Mazza che sveglia D'ha notato Come andiamo per a te No Boom Niente boom Gering Tranquillo 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 Fra So benissimo Un po' di caldo Ma guarda No Involontanamente sono andato avanti E si E si gode E si gode Con doppi You have You have One job Pover Pover Povero Riproviamo Riproviamo Eccolo 1000 1000 1000 1000 Siamo arrivati Secondi E abbiamo Fatto 1000 Siamo arrivati I primi Abbiamo fatto 1822 Ho capito Che non l'avrebbe pagata Tanto Infatti 1822 Il massimo Che siamo riusciti a fare In questa partita Brottissima Rapporto dettagliato Abbiamo fatto male Con le secondarie In realtà Per 47000 punti Cioè io non ho fatto niente E le secondarie Hanno fatto Il loro Sporco lavoro Potevamo fare Un devastante Sul Mino Da Orforce Se ci avessimo creduto Maggiormente Stessa cosa sul Salem Ma vabbè Dettagli I crediti Levate le varie spese Portiamo a casa Comunque Siamo in positivo Di 900 Con il premium Senza 571 Al netto Dei bonus Ho fatto Come sempre Alcune partite Di riscaldamento D'accordo E devo dire Che non sono andate Proprio come volevo Devo essere sincero Cioè nonostante Il video Lo ritengo Riuscito Perché vi ho mostrato Proprio quello Che volevo mostrarvi Ovvero Il posizionamento Corretto Che può Far Attivare Le secondarie Che riusciranno A scavalcare In maniera Piuttosto anche Sbalorditiva Le isole Anche se sono Un pochino alte Quindi un danno Costante Ai nemici Che si riparano Dietro le isole Dovete Sempre Sfruttare L'isola Per giocare In Napoli Però potete Anche giocare In mare In mare aperto È una nave Che si adatta È una nave Multiruolo D'accordo Può fare Tutto quello Che desiderate Se volete Sentirvelo dire In caso Di emergenza Avete il fumo In caso Di attacchi Un pochino Come dire Un po' Più Silenziosi Due siluri Dalla distanza D'accordo E il nemico Vi posso assicurare Che spesso e volentieri Non andrà a fiutare Il pericolo Che avete lanciato Nell'acqua E quindi Danni Su danni Su danni Per quanto poi Riguarda l'integrità E la resistenza Compressiva Del Napoli Sicuramente È una nave Molto solida È anche strutturata Molto bene Le secondarie Ripeto Sparano anche Con un'apertura Quasi inesistente Della nave Quindi qualcosa Verrà sempre sparato E farete Dei danni Magari Saranno Non completi Perché ovviamente Non tutti i canoni Spareranno Però Da questo punto di vista Sicuramente Rimanete operativi Una nave Che se non l'avete Ragazzi Fermate tutto Quello che state facendo Bloccatevi Respirate A pieni polmoni E comprate In Napoli Mettete da parte Tutto il carbone Che serve Fra un mese Fra due mesi Fra tre mesi Avrete una nave Assolutamente Fantastica Ragazzi Continuiamo Con il video Speciale Dei nove anni Per quanto riguarda Enlisted Ragazzi L'argomento Merge Che non è nient'altro Che la fusione Ok Delle campagne Con un rimescolamento Un po' Generale Con una diversa Grafica Eccetera Eccetera Ci sarebbe davvero Tanto da dire Andrò a fare un video Appena Mi sarà possibile Entrare anche Nel dev server E comunque sia Lo andremo ad approfondire In un video Specifico Perché comunque C'è bisogno Di parlare Per molto tempo E dobbiamo vedere Tutti i cambiamenti Che ci saranno Per questo speciale Comunque Dei nove anni Vi porto una partita Ovviamente Con la battaglia Nella battaglia Dunisia Andremo a vedere Squadre italiane In particolar modo Si spera La squadra Con lanciafiamme La squadra Con la 43 Come arma principale Squadra carrista Se ce ne sarà Modo Squadra con L'MP40 Ingegneri Con delle armi Ancora un pochino Da rivedere E poi Vabbè L'aereo Che sinceramente Il serie 1 Non utilizzo Quindi le tre squadre Principali Sono le premium E poi le altre due Per quanto riguarda Il progresso Siamo quasi In fase conclusiva Del livello 16 E sinceramente Quello che mi interessa Più di tutto È il livello 21 Ok Per provare Una squadra Che ancora Mi manca Una moto Con una mitragliatrice Sicuramente Può essere Divertente E anche utile Alla causa Poi vabbè Le armi più avanzate Le vedremo piano piano Una volta Che le andrò A sbloccare Andiamo in partita E giochiamo Alla battaglia di Tunisia Dobbiamo attaccare Non lo so Quanto possiamo farcela Per la verità Però ci proviamo Allora Subito Rally point Prima cosa da fare Immediata Proprio Subito Ah Ho capito Come la situa Allora Aspetta 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 Qua servono 800 rally point Per Per avanzare Di mezzo metro Qua rally point Uno Vai Cerchiamo di capire Come si comportano Anche gli avversari E poi proviamo Un attacco Bello Frontale Qui là Direi proprio Di non andare Ovviamente I lanciafiamme Sono Forse potevo mettere Pure più avanti La I rally point Lì dietro Qua Vabbè Infatti lo sta mettendo lui Vabbè Sì È troppo lontano L'ho messo Che cosa ho fatto Lo so che ci sono Anche gli alleati Scusa 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 Ci sono anche gli alleati Ma che sta pushata Sconvolgente Subito Ancora lui Voi direte Vabbè Ma è attaccato Anche un po' Gli alleati Sì Però Adesso qua Siamo in mezzo Però Non mi vede Opla Oh Cambia l'arma E vai Con la stessa Mia grana Vabbè Abbiamo fatto tipo Un milione di punti Nei primi Secondi Wow Ora dobbiamo provare A tornare Ci sono i cecchini Però Non sappiamo Prendere Le persone Stese a terra Bene Mi fa piacere Sta cosa Sono un po' Sconvolto Perché abbiamo Fatto una pushata Pazzesca Vi vedo Levatevi Bevi Sopra Vero Vabbè Abbiamo fatto Una pushata Che Sono sconvolto Continuiamo Però non vorrei Che si Finisse tutto lì Capito C'è la pushata E poi Dobbiamo essere Concreti Dobbiamo concretizzare No Non ce la faccio Andiamo in cap Andiamo in cap Andiamo in cap In miseria Andiamo da questa parte La vedo male C'è quella mitra E' lì Che saranno Molto fastidio No Lo sapevo Era troppo bello Per essere vero Mi sembrava Troppo facile Mi sembrava Troppo facile Ricarica Veloce C'è quello Che sta C'è quello Che sta Un fastidio Assurdo Scusate Se non parlo Sono entrato In Quattro ce ne sono lì Come on boys No Non ce la facciamo A vincere Non ce la facciamo Perché quelli Si stanno Non hanno fastidio Da sopra C'è quello Con la mitraillatrice Interna Dobbiamo Mi serve un rally point Finisce così Raga Uh bella quella Mi serve un rally point Assolutamente Rally point Subito Subito Un rally point Bevi No Forse ho rischiato Troppo qua Dovevo Eh potevo Entrare Anche Dalla C'è un rally point Veloce Lo vedo Lo vedo Ragazzi Stava un rally point Davanti a no Comunque Non volevo dire Nemico Ora 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 No E' rimasto solo lui E' vero Non ce la faremo mai Dannazione Il mio caricatore vuoto Ricarici Non lasciata di Fidere No Nient'altro qua Qui là Stanno Uno alla volta Uno alla volta Non ho più Vai Vai Raga Un colpo alla volta Stiamo facendo Non lo so Come stiamo pushando In questo modo Mi vede Mi vede Mi vede Sono morto Sono morto Sono morto Non sono Dai Veloce Sento un rally point Lo sento Veloce 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 Che stiamo andando bene Buono 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 Questo con le bombe Buono Bravo Raga Rally point Davanti a voi Però distrugge Eccoli Altro rally point Sempre più vicino Stiamo massacrando Sbaglio Bravo Bravo E qua Non si può entrare L'intelligenza artificiale Diciamo che qui ovviamente un pochino Un pochino ci fa ad aiutare Perché non sparano correttamente Buono Prendiamo il capo e via Facciamo altri punti Oh sbagliato Perché sto andando Eh mi sono buttato Mi sono buttato in mezzo Bravo Dove cavolo Eh no Qua è un labirinto Senza Dai via Senza Uscita Questa Aspetta Aspetta Qua puntualmente mi perdo Puntualmente mi perdo Ma dove C- Non ho più materiale Non mi fai a salire qua Ovviamente no Bravo Questo è riuscito E' stato troppo facile Che cavolo stanno Eh va bene dai Da sopra sinceramente Non ti avevo proprio Pensato Stiamo facendo Abbiamo fatto una pushata Cioè io sfido chiunque A sopravvivere a una cosa A un attacco così Pesante Il primo è stato Terrificante Con quel lanciafiamme L'abbiamo fatta Forse 15 Una multichille di 15 Tutti là dentro Ma signori Vi mettete tutti là dentro È normale Come primo attacco Un lanciafiamme Aspettatevelo Aspettatevelo Un lanciafiamme Si perde tempo Andiamo Guarda dove cavolo Ha sparato questo Baby Forse dovremmo mettere Un rally point E non sottovalutare La situazione Quest'arma Non è che mi faccia Impazzire Non ha un danno Proprio Potente Aspetta 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 Ho capito Che serve Un po' di lanciafiamme Qua Quelli sono nemici Qua 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 Sì signore Un rally point Qua dentro È perfetto È perfetto A 53 Di distanza Pronto Entriamo cattivi Con lanciafiamme E via Non so quanti Sono loro Io sono dell'opinione Che quando trovi Qualcuno Semplicemente Lanciafiamme Lo fai Lo usi tutto Lo usi tutto E via Cioè non ci devi pensare Semplicemente Non ci devi pensare Li devi dare in testa Proprio in testa Capito Finché Finché Via Cattivo Devi andare cottivo Non siamo arrivati primi Ciononostante Che ha fatto più di me Cosa avete distrutto Cosa avete fatto Per fare Questo ho fatto Complimenti Ho fatto Un 110 Con Allora 110 kg Con 5798 Però io ho fatto Attenzione Ho fatto 95 Con 25 assist E zone Difesa Si mi ha fregato un po' La zone catturate Anche Ha fatto più punti lì E io però Ho perso solo Tre squadre Signori Ho fatto 5289 Il terzo Ho fatto 4075 Con solo Due squadre Quindi Direi che La superiorità Era netta E non avevano Non avrebbero mai potuto Contrastarci Nella maniera Più assoluta Perché comunque I ranghi più alti Li avevamo noi E comunque Direi che è stata Un'ottima partita Sblocchiamo Il 190 A1 Che sinceramente Con tutta la buona Volontà Non penso di Utilizzare Perché Insomma No Magari Lo tengo Lo tengo Perché bisogna Tenerlo C'ha i cannoni da 20 Le 7.92 I cannoni da 20 Sono buoni per intercettare Tutto quello che volete Però non penso Rispetto al gioco Che avete visto Che possa trovare spazio Non ho usato Una volta Un aereo Una volta Un bombardiere Anche perché Non ne ho E non li posso utilizzare La squadra Giustamente qualcuno potrebbe dire Ma sono le squadre premium In realtà Sì Però come dico sempre Le squadre premium Ti danno più velocità Nel sbloccare La battaglia La campagna Di riferimento Se avessi avuto Il buon Davy G90 È un video Ragazzi Ovviamente Ho cercato Di non tagliare Più Non ho tagliato nulla Nella prima fase Giusto per Per scambiare Due parole E parlare Del più e del meno Inizialmente Avevo preventivato Di fare un video Lungo Lungo Con lungo Intendo 3, 4, 5 ore Però ho detto Ma Una miseria ladra È vero Che mi volete bene Però 5 ore Di devi Ma chi se li guarda Si guarda nessuno Ok E quindi Mi sono mantenuto In un'ora O poco più D'accordo Vi ringrazio ancora Per il vostro supporto Il supporto È determinante Per andare avanti E Non lo fare Non lo fare Non lo fare Se lo fai Perdi iscritti Devi concentrare Respira Non lo fare Non lo faccio Tranquilli Non lo fare Per un attimo Ci ho pensato Poi ho detto Nel video di 9 anni Non lo posso fare Perché poi Ok Il vostro supporto È Queste frate Fate e rifate Ok Avete capito Che vi voglio bene Voi mi volete bene È una cosa Che è reciproca E nulla Domani Continueranno i video Continueranno i gameplay Continueranno Ti salva devi Ti ripara devi Ci pensa devi Tormentoni Lurida Lurida Però i tormentoni Di devi Che sono lurida Non sono stato io Ti aiuta devi Ti salva devi Ti ripara devi Ci pensa devi Insomma Ci pensa sempre devi Chi ci deve pensare Se no Quindi questi tormentoni Continueranno E E nulla Tenetevi forte Perché potrei Darvi una notizia Bomba Nei prossimi giorni O forse no O forse non ve la do Ma la tengo Devo recitare Ragazzi a parte gli scherzi Spero che il video in qualche modo sia stato apprezzato Non sapevo che cosa fare di preciso Perché ho detto Per fare un video speciale Dovrei fare Tipo in una partita Dovrei fare 20 kill Dovrei fare 4 bombe atomiche Dovrei fare 10 kraken Dovrei fare 200 kill Su elisted Insomma A un certo punto ho detto Cerchiamo di essere noi stessi Che forse è la cosa migliore Per far si che tutto funzioni Nella migliore Nel migliore Dei modi Sono stato veramente deliziato Da questo Consigliatista Bellissimo Veramente 2 euro spesi Bene Il bicchiere però è bellissimo Con l'arancione Una specie di arancione giallo Non l'ho ancora ben capito E quindi questo è fatto Ragazzi Video terminato Speciale terminato Ci vediamo l'anno No Ci vediamo domani con un nuovo video Però poi l'anno prossimo Promesso E qui lo dico Prendete nota Per i 10 anni Faremo qualcosa Di un pochino più Più bello Più Ci sarà una nuova webcam Questa ancora fa un po' un effetto Guarda qua Che sta schifo Qua tutte queste cose Che si muovono Perché questa è l'illuminazione Che è scadente La webcam Che deve essere cambiata Abbonatevi No scherzo Non siamo così disperati Era per fare la battuta E niente Ora voi mi dovete scrivere Se siete arrivati fino a qui In questo video Perché vorrebbe dire Che insomma Posso pubblicare quello che voglio Voi lo guardate lo stesso Sarebbe fantastico Una simpatia nei miei confronti Che sarebbe a dir poco Surreale Basta Chiudiamola qui Alla prossima Ciao Grazie a tutti